Bart Lancaster, Robert De Niro, Donald Sutherland, Gerard Depardieu, Stefania Sandrelli, Alida Valli, Romolo Valli, Laura Betti, Francesca Bertini, Diva del Muto, sono solo alcuni dei nomi che compaiono nel film di stasera, in seconda serata, che è il capolavoro di Bertolucci, Novecento, un film monumentale che il regista riuscì a farsi produrre, soprattutto grazie al successo strepitoso di Ultimo Tango a Parigi, anche dell'eco che Ultimo Tango ebbe in seguito ai suoi problemi notissimi con la censura, un film che ambisce fin dal titolo a diventare un enorme affresco, tra l'altro si apre con una sorta di affresco, non un affresco ma i titoli appaiono su una riproduzione del quarto stato di Pellizza da Volpedo, è un film che racconta due vite parallele, del figlio di un ricco possidente terriero e del figlio di una contadina che nascono lo stesso giorno, il 27 gennaio del 1900 e crescendo, da piccoli giocano insieme, crescendo si trovano a vedersi allontanare dalla loro origine e dai sommovimenti politici che poi l'Italia attraversa in tutto questo periodo. Il film è stato, all'epoca costò 6 miliardi, oggi sembra una cifra piccola ma all'epoca veramente era una cosa enorme, che furono in gran parte messi da produzioni americane, ma è un film che poi in America ebbe pochissimo successo. Bertolucci un po' scherzando diceva io ho fatto questo film per trionfare in America e in Unione Sovietica e in tutti e due questi stati il film non ha funzionato perché c'erano troppe bandiere rosse. È un film ovviamente anche sulla nascita in Italia del comunismo, si parla anche della nascita del fascismo, il film sostanzialmente finisce poco dopo la liberazione ed è popolato di personaggi, immagini liriche, scene di massa, è un grande romanzone, travolgente, che vorremmo mettere in prima serata, non lo possiamo fare solo perché evitato i minori di 14 anni e quindi siamo costretti a farlo partire dopo le 23. Vi chiedo un po' di buona volontà, per il film dura quasi 5 ore, per cui magari tutto in una volta è difficile vederlo, tanto che anche al cinema il film uscì in due parti, uscì 900 atto primo e 900 atto secondo e che non è male se si pensa che il progetto originale doveva essere un filmettino per la televisione abbastanza a basso costo, che poi crebbe, divenne appunto il film che state per vedere, scritto da Bernardo Bertolucci, col fratello Giuseppe e con Kim Arcalli, che è stato uno dei grandissimi e principali collaboratori del Bertolucci degli anni 70 e che in questo film veramente ha dato un contributo importantissimo. Le due anime del film, Arcalli e Bertolucci, si sposano alla perfezione, spero che se non l'avete visto stasera gli diate la meritata occasione.